Mattia De Lloris, giocatore della Pescara Pallanoto, tra l'altro complimenti che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri perché con un tuo gol siete riusciti proprio sabato scorso a vincere la prima partita in trasferta Sì, il merito è di tutta la squadra perché siamo partiti male, con un parziale di 3-0 stavamo sotto, poi 6-3 Siamo riusciti a recuperare la partita Ma siamo riusciti a recuperare la partita, perché mi ci sono trovato io in quella determinata situazione chiunque c'era chiudeva la partita nel migliore dei modi e sono arrivati questi primi tre punti in trasferta che mancavano dall'anno scorso Quanti anni hai? 24 anni Praticamente la palla a nuoto è la tua vita? Gioco da quando io ero under 11, quindi si parla di veramente 14 anni fa Un orgoglio essere cresciuto in queste giovanili e ora far parte della prima squadra Il tuo sogno qual è? Il tuo sogno del cassetto? Il sogno del grande che cosa vuole fare Mattia De Lloris? Riportare il pescare in serie a uno, assolutamente E magari è un sogno avere uno di questi ragazzini che arrivi a giocare con me E questo è bello, è bello sentire e dire queste parole da Mattia De Lloris che abbiamo avuto la fortuna di conoscere Complimenti, soprattutto in Boccalupo sabato avete il confronto interno col Palermo che è una delle squadre più attrezzate Assolutamente, sì sì, è una delle più attrezzate si è rinforzata molto nell'estate ha fatto un grande mercato, ha preso i giocatori esperti Si può fare? Sì sì, noi crediamo, ci crediamo sempre noi daremo sempre tutto soprattutto siamo in casa invitiamo il pubblico a venire, a tifare e noi daremo il 100% perché da qui non si esce con se non c'è la lingua che ti cade per terra Questa è una dichiarazione bellicosa proprio Assolutamente Sempre in ambito sportivo? Ambito sportivo, assolutamente Grazie 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 a tutti.